Comincia la fruizione delle spiagge, di voglia ce n'è tanta, soprattutto dopo questo inverno trascorso a lottare contro l'emergenza sanitaria e questo weekend in molti hanno deciso di recarsi nelle località costiere per godersi il mare. Non sono mancati però anche i primi incidenti. Ad Agropoli, un diciassettenne originario di Angri, abitue con la sua famiglia della località cilentana, mentre era sulla spiaggia del lungomare, all'altezza dell'ex sede della Guardia di Finanza, si è trafitto il piede con un chiodo che era appena sotto la sabbia. Purtroppo il chiodo è penetrato all'interno del piede, per cui è stato necessario l'intervento di un'ambulanza che ha trasferito il giovane presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove è stato disposto un intervento chirurgico. D'altra parte, nello stesso tratto di spiaggia, era stata avvistata anche una siringa, poi rimossa dal bagnino del posto. Insomma, un campanello d'allarme sulla necessità di maggiore pulizia della costa e di una maggiore sensibilità ambientale nelle persone. Brutta disavventura anche per una donna, a Maratea, nel pomeriggio di domenica si è recata la spiaggia del nastro, ma ha finito per scivolare sugli scogli riportando una contusione al ginocchio. Per recuperarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Lauria, che nonostante la pioggia rendesse l'operazione più difficoltosa, sono riusciti a steccare il ginocchio della signora e a imbracarla su una barella con cui poi l'hanno trasferita in ospedale. Episodi questi che servono a ricordare a tutti come bisogna essere prudenti, anche in vacanza. Massima allerta quest'anno da parte delle forze del territorio c'è anche e soprattutto nei confronti di quanti si avventurano lunghi deliziosi ma anche imprevedibili sentieri cilentani, per evitare che si ripeta quanto accaduto la scorsa estate, con diversi turisti rimasti senza orientamento, fino alla terribile tragedia occorsa a Simone Gaultier.